Un incendio si è sviluppato nel corso della mattinata presso l'ex pista di Borgo Mezzanone a circa 10 chilometri da Foggia, ma ricadente nel territorio di Manfredonia, dove insiste un insediamento di baracche ed alloggi di fortuna occupati da cittadini immigrati. Una dozzina le baracche interessate dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco intervenuti che stanno bonificando l'area. Non sarebbero stati riscontrati feriti o intossicati durante il periodo estivo. In particolare, nell'insediamento vivono quasi 2.000 cittadini nordafricani, molti dei quali braccianti, che lavorano nelle campagne della zona.